25 novembre 1881 in provincia di Bergamo nasce Angelo Giuseppe Roncalli salito al soglio pontificio nell'ottobre del 1958 con il nome di Giovanni XXIII è per tutti il Papa Buono l'11 ottobre del 1962 Papa Roncalli apre i lavori del Concilio Vaticano II finalizzato ad affrontare le nuove tematiche dell'era moderna e il rinnovamento delle strutture interne della Chiesa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti